giornate ibertinoro 2020 sarà un'edizione eccezionale perché eccezionale è il momento che stiamo vivendo un momento particolare della vita di ciascuno dell'economia della società che in qualche modo mette anche incertezza sul futuro da sempre le giornate ibertinoro hanno giocato la sfida della profezia non tanto perché volessero giocare col futuro ma perché erano sono sempre stato un allenamento a immaginare il presente in funzione di un futuro buono futuro desiderato quest'anno questa tensione diventa fondamentale non potevamo rinunciare a questa a questo laboratorio per questo motivo al centro del dibattito del 9 del 10 di ottobre ci sarà il tema della trasformazione della resilienza trasformativa non possiamo accontentarci di una riforma non possiamo adattarci perché non basta sopravvivere in questa fase occorre vivere intensamente per poterlo fare bisogna avere un'idea di futuro e bisogna riuscire ad affrontare l'incertezza nella maniera più adeguata perché ciò accada è necessario l'apporto il contributo di quello che noi abbiamo chiamato terzo pilastro che non è solo il terzo settore il mutualismo e la cooperazione e l'intelligenza collettiva e l'apporto irrinunciabile dei giovani delle nuove generazioni è una dimensione terza che entra dentro lo sviluppo e di fatto lo cambia lo cambia nelle sue radici quindi metteremo dentro alla programmazione questi elementi lo faremo nella sessione di apertura che metterà che avrà delle sessioni dei keynote che approfondiranno questi temi e lo faremo soprattutto per uscire da altri due elementi punti critici il primo è quello della quarantena della fiducia rompere la quarantena della fiducia è fondamentale per cominciare a sperare a immaginare un futuro buono e per poterlo fare occorre mettere al centro dell'economia del welfare dell'innovazione il tema dei beni relazionali dei beni comuni insomma la società in mezzo l'altro elemento il tema dell'innovazione l'innovazione soprattutto quella digitale in qualche modo sconta un approccio un po troppo deterministico basta un po di tecnologia per immaginarsi un'innovazione buona non è così sappiamo i problemi che nascono rispetto al tema delle disuguaglianze quindi come ricomporre la disuguaglia il tema dell'innovazione senza creare disuguaglianza ecco da questo punto di vista il tema è proporre una grande alleanza con tutto il tema delle infrastrutture sociali e dell'innovazione sociale questo è un po il menù menù intenso menù che noi in qualche modo sono portate che verranno rilasciate durante questa giornata in mezzo in una pluralità di momenti e che avranno appunto al centro il tema del terzo pilastro per cui nel salutarvi vi dico soltanto che l'apertura delle giornate di Bertinoro quest'anno vedrà la presenza appunto di Rangoran Rajan che in qualche modo ha scritto e ha lanciato il tema del terzo pilastro in una dimensione globale quindi il tema della comunità avremo la fortuna di un di avere un suo intervento Rajan è un economista un grandissimo economista già chief executive del fondo monetario internazionale della banca indiana quindi ci farà diciamo l'onore è un grande dono tutte le persone grandi in qualche modo si riconoscono anche dalla loro umiltà e semplicità ecco ha messo a disposizione il suo contributo con cui apriremo le giornate di Bertinoro quindi in questo momento io vi do appuntamento alle giornate Bertinoro Digital Edition che non potranno tenersi quest'anno in questo posto meraviglioso dovremo fare a meno della dimensione di luogo e la dimensione relazionale però dovremo in qualche modo calarci un'atmosfera vogliamo calarci un'atmosfera che non rinuncia al sentimento e all'emozione e al desiderio che nascono quando siamo qui nella rocca grazie a tutti